E domani torna il teatro di strada con il Festival Lunatica, spettacoli in nove comuni del Canavese nel segno della sostenibilità. Simone Tarò. La musica del film di John Landis è la colonna sonora delle acrobazie dei Black Blues Brothers, formidabile quintetto di artisti kenyoti, tra i protagonisti di spicco sabato sera a lanza del Festival Lunatica. Dopo la pausa forzata a causa pandemia del 2019, l'arte di strada e gli spettacoli circensi di Lunatica tornano in ben nove comuni, con 13 compagnie e 42 appuntamenti, concentrati tra il giovedì e la domenica. Gli spettacoli sono suddivisi in tre circuiti, quello della pista ciclabile tra Nole, Mati e Villanova al mattino e al tramonto, il circuito degli aperitivi circensi preserali a Fiano, San Maurizio, Cirie e Leini, e le sere Lunatica, San Francesco, San Maurizio, Cirie, Lanzo e Leini. Un programma fittissimo, ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria dal sito di lunatica.it, per garantire misure di sicurezza e distanziamento. Tra le compagnie la prima nazionale del clown Bookra Circus, unica data in Italia, dal Belgio gli Occhi Doc. Sotto il tendore di Nole il delicato teatro circense del Teatro delle Foglie e poi ancora acrobati, giocoglieri e illusionisti. Grazie a tutti.